Ad appena cinque mesi dal suo sbarco in Premier League, Patrick Cutrone potrebbe nuovamente tornare in Italia. Al Wolverhampton le cose non vanno benissimo, con sole tre reti messe a segno in 24 presenze stagionali. Ad accogliere a braccia aperta l'ex Milan ci sarebbe però la Fiorentina di Rocco Commisso che vorrebbe regalare il giovane attaccante al nuovo allenatore Beppe Iachini, subentrato pochi giorni fa al posto dell'esonerato Vincenzo Montella. Il giocatore, che compirà 22 anni il prossimo 3 gennaio, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Firenze e anche la trattativa fra i due club sarebbe a buon punto, sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore dei Viola. Resta da trovare un'intesa sulla valutazione economica del cartellino di Cutrone, visto che i Wolves vorrebbero ricavare 20 milioni, mentre la Fiorentina non intende offrirne più di 15-16. Una piccola differenza che non dovrebbe complicare i piani di questa operazione. Un accordo metà strada può essere raggiunto e così l'attaccante potrebbe diventare il primo rinforzo di Iachini. L'Arsenal punta su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese in forza alla Juventus, arrivato quest'estate dal Paris Saint-Germain, ha fino a questo momento dell'uso delle aspettative dei tifosi bianconeri e forse anche di Maurizio Sarri, che gli ha preferito spesso altri interpreti nel suo ruolo. Sul talento transalpino, secondo quanto riportato dal The Times, sarebbero appunto piombati i Gunners con il nuovo tecnico Michele Arteta, che avrebbe chiesto al club di provare a prendere in prestito il centrocampista. Rabiot ha totalizzato solamente 711 minuti in 12 presenze con la maglia bianconera ed il suo addio è molto probabile. Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal ritorno al Milan. Arrivano sempre più conferme che siamo ormai vicinissimi al giorno decisivo per l'arrivo del giocatore a Milano per la sua seconda esperienza in rosso-nero dopo settimane di trattative. Il trentotenne svedese, reduci da alcuni anni nel campionato americano, vestirà nuovamente da gennaio la maglia milanista, come già è accaduto tra il 2010 e il 2012, dove vinse uno scudetto e realizzò 42 reti in 61 presenze tra campionato e coppe. Il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti in casa Milan, Stefano Pioli conta di averlo a disposizione per iniziare un programma di recupero personalizzato della forma fisica per averlo al meglio intorno alla metà di gennaio. In casa Napoli è tempo di calcio-mercato. Stando a quanto riportano i tabloidi inglesi Daily Star e Daily Mirror, Khalidou Koulibaly, pilastro della difesa azzurra, avrebbe chiesto di lasciare la città partenopea già nella finestra di mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e Arsenal, pronte a investire parecchi soldi per sistemare la retroguardia. Attenzione però anche all'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo conosce bene il calciatore dopo averlo allenato per un anno e mezzo e sarebbe pronto ad accoglierlo anche ai Toffis. Il Napoli però non vorrebbe lasciarlo partire, soprattutto a stagione in corso. La sua valutazione intanto è scesa intorno ai 65 milioni di euro, cifra che tra l'altro dell'Aurentis vorrebbe percepire cash evitando contropartite tecniche.